Siamo negli studi, nella sede inglese di Rock TV, a Manchester, vi chiederete perché, ma è facile capire, no? Stiamo cercando, stiamo cercando di riformare gli oasis e per fare questa cosa abbiamo contattato la mamma di Noelle e di Liam Gallagher, questa signora, questa dolce signora, la signora Gallagher, la signora Gallagher, chiamano la trigiliana, Giuliana, Giuliana Gallagher, Giuliana Gallagher, figli, 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 Liam e Noel, che già un po' si vogliono bene, come potete vedere, loro hanno qualche problema, adesso cerchiamo di capire.